Ciao, sono Fabio Anicas, sono tutor didattico e docente di chitarra dell'Istituto Musicale dell'Heb Music Academy di Sarzana in provincia di La Spezia e quest'oggi ti volevo parlare di alcuni esercizi di tecnica da fare sullo strumento puramente indirizzati a discorso di riscaldamento. Il riscaldamento è un aspetto fondamentale della tecnica dello studio dello strumento. Io consiglio a tutti i miei allievi di fare sempre degli esercizi di tecnica di questo genere che sto per farti vedere prima di approcciare lo studio dello strumento, prima proprio di incominciare a suonare ogni giorno, devi seguire quotidianamente sempre con l'utilizzo del metronomo che deve essere il tuo fedele compagno nel percorso di studi e per far questo ti farò vedere degli esercizi abbastanza semplici da ricordare che ti permettono lo scelgimento di tutti i tendini della mano sinistra e ti illustrerò poi degli esercizi leggermente sempre più complicati che ti possano permettere di seguire anche il percorso di studi. Poche chiacchiere e andiamo via. Allora, uno degli esercizi può essere ad esempio che è un abbastanza classico 1 4 3 2 1 2 3 4. Ad esempio. Ecco, questo tipo di esercizio da eseguire chiaramente su tutto il manico della chitarra dal primo tasto al dodicesimo tasto su tutte le corde. Ti faccio vedere un esempio e poi te lo faccio vedere prima dal primo al dodicesimo tasto e poi lungo tutta la chitarra. Eccetera eccetera. Stessa cosa partendo poi dalla sesta corda alla prima e andando avanti lungo il manico. E così via. Ti consiglio di farli sempre prima al suono pulito e poi passare al suono distorto sia perché al suono pulito ti rendi subito conto di alcune cose che invece sentiresti con più difficoltà utilizzando il suono distorto e poi per sentire invece in un secondo momento la diversità proprio di sonodità. Ti faccio sentire adesso lo stesso esercizio con l'uso di un overdrive. E così via. Un altro tipo di esercizio invece potrebbe essere quello che ti permette di utilizzare tutte le dita della mano. Ad esempio l'1434. qui. E tutte le sue combinazioni. 1-3-2-3. 1-4-2-4. 2-4-3-4. E così via. Questo tipo di esercizi ti permettono di scaldarti e sciogliere la mano a 360 gradi. Dopodiché puoi passare ad esercizi diciamo di tipo sweep picking. Ad esempio 1-2-3-4. 1-2-3-4. 1-2-3-4. A salire e scendere in due diversi modi come ti mostro di seguito. 1-2-3-4. 1-2-3-4 però dalla prima corda alla quarta. Importante a questo tipo di esercizio la tecnica del plettro. Tutte plettrate in giù a scendere, tutte plettrate in su a salire. chiaramente sempre con l'utilizzo del metronomo esegui questo tipo di esercizio in maniera molto più pulita e più precisa. Questo tipo di esercizio, fatto con l'overdrive in un secondo momento, assomiglierà tantissimo al classico sul peaking. Ti faccio sentire un esempio. E così via. E così via. 3-2-3. Grazie a tutti.